Il signorino Giorgio era un vero ballerino. Anche lui è partigiano. Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulvia parlavate per ore. Il signorino Giorgio invece... Invece cosa? Giorgio! 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 Che ha Milton? C'è di mezzo una ragazza. Sei Milton? Sì. Sì, circa Giorgio, non era con voi. Sì, c'è. Sì… Iya, sì! Sì, c'è… Sì, c'è. Sì… Sì Câlilities Grazie a tutti.